Io sono Francesco e questa è la nostra casetta domotica, è una casa intramente costruita da noi, per esempio prendendo pezzi da una vecchia casa delle bambole e dei pezzi stampati con la stampante in 3D che è liberamente comandabile tramite un qualsiasi dispositivo connesso a internet, per esempio tramite un normale smartphone, non so se si vede possiamo per esempio spegnere le luci del salone, aprire il giardino e aprire il cacciato del giardino e per esempio possiamo anche azionare una pompa che adesso però sfortunatamente non è disponibile questa tecnologia è anche impiegata in delle case reali e quello che vogliamo fare noi è riprodurne un modello in scala